Si rischia un'invasione fuori controllo delle gaze che stanno già creando non pochi problemi agli agricoltori, aggiungendosi a quelli già cronici causate dalle cornacchie e dai cinghiali. A denunciarlo è col diretti Nord Sardegna, riproponendo un problema sempre attuale per le campagne acuito dalla presenza di una nuova specie aliena all'isola, ma che da qualche anno è arrivato nel Nord Sardegna proliferando velocemente nel Sassarese. Come denunciamo da tempo la questione Selvatici non è stata mai affrontata in modo serio ed organico, denuncia il presidente di Coldiretti Nord Sardegna, Battista Qualbu. Non abbiamo alcun censimento stima sul loro numero e distribuzione nel territorio. Secondo Coldiretti Nord Sardegna si accontezza del loro proliferarsi solo dalle testimonianze degli agricoltori e allevatori che denunciano danni alle culture a causa dell'invasione di cornacchie, cinghiali, cervi, nutrie e gabbiani. I cinghiali inoltre sono diventati un problema di sicurezza per i diversi incidenti stradali con vittime e consistenti danni. La fauna selvatica, conclude il presidente Battista Qualbu, è fuori controllo e quindi necessario trovare collegialmente soluzioni vere e concrete.